Musica Ben ritrovati, ben ritrovati da Alessio Grosso Dunque la settimana si apre ancora con un respiro di aria mite ma piuttosto umida di tipo sciroccale E abbiamo delle perturbazioni che si avvicinano praticamente dall'entroterra africano Dove c'è stato parecchio maltempo come in Marocco anche con vittime E vengono a disturbare il tempo della penisola facendo in qualche modo antagonismo con dell'alta pressione presente sull'est europeo Quindi nei prossimi giorni, questa carta sinottica è prevista per giovedì Avremo un muro contro muro tra queste due situazioni L'una perturbata atlantica ma con radici anche africane e con l'alta pressione sull'est europeo Chi vincerà? Probabilmente vinceranno alla fine le perturbazioni perché poi arriverà la pioggia La pioggia soprattutto da mercoledì e in particolare sui versanti occidentali Ecco le precipitazioni previste per la giornata di mercoledì Precipitazioni che insisteranno soprattutto tra la Toscana e il Lazio Parlo della costa sul nord ovest poi nel sud della Sardegna A ridosso della Sicilia e sul Salento in Puglia Mentre per giovedì le vediamo spostate a guadagnare spazio un po' su tutte le regioni In particolare al nord e sulle centrali tirreniche Ma poi nel pomeriggio si sposteranno lungo le regioni adriatiche Attenzione in verde c'è quel temporale che abbiamo segnalato tra la notte e il mattino presto Proprio sulle coste del Lazio e poi in propagazione verso Roma Attenzione poi cosa accade da venerdì Questa ferita rimane aperta anzi si approfondisce perché giunge una nuova saccatura atlantica Continua questo muro contro muro con l'alta pressione che cerca di respingere la depressione E ancora dovete sapere che non si sa come andrà a finire per il weekend Potrebbe esserci lo sfondamento di questa saccatura con mal tempo oppure no E quindi vi invito naturalmente ad aggiornarvi su www.meteolive.it Adesso vediamo una tendenza molto lontana nel tempo per vedere se arriva o no l'inverno La tendenza è per il ponte dell'Immacolata Una tendenza veramente a lungo termine Quei pallini neri altro non sono che il posizionamento dell'Italia sulla cartina europea E quelle masse d'aria blu sono l'aria fredda Arriverà o no l'aria fredda? Arriverà o no l'inverno sull'Italia? Ebbene su questi 12 scenari che abbiamo scelto Ce ne sono circa 6 che danno questa opportunità di freddo Quindi il 50% Cosa significa? Che probabilmente vincerà l'Atlantico con la sua amitezza e con le sue piogge Quindi non farà ancora freddo Ma c'è ancora la possibilità che dell'aria fredda del resto europeo Possa modificare questa previsione Ecco l'aria fredda che andrebbe ad alimentare una depressione nel Mediterraneo A quel punto sarebbero le prime nevicate e sarebbe il primo freddo invernale Ma ne parleremo diffusamente naturalmente la prossima settimana Quando introdurremo tutto il discorso legato al ponte dell'Immacolata E adesso andiamo a riassumere tutto quanto ci siamo detti con le consuete grafiche Allora per martedì la giornata vedrà delle piogge sulla Liguria Forse sul Piemonte occidentale Molta nuvolaglia sul resto del paese Ma pochi fenomeni E tutto sommato ancora un clima molto mite al centro-sud E in particolare sulle due isole maggiori Investite da questo flusso scirocale Mercoledì invece le piogge come detto guadagnano spazio verso il territorio In particolare lungo la fascia costiera tirrenica Va un po' meglio sulle regioni adriatiche In particolare su quelle meridionali Andiamo a vedere il giovedì dove invece le precipitazioni Al mattino sono come detto sui versanti tirrenici Ma nel pomeriggio poi guadagnano spazio un po' su tutta l'Italia E quindi si tornerà con una situazione di tempo moderatamente perturbato Un lieve calo delle temperature e anche un po' di neve in montagna Oltre i 1800-2000 metri Il venerdì trascorrerà invece con tempo in miglioramento sull'insieme del paese Schiarite da nuvolamenti qualche temporale possibile Qua l'ho indicato sulla Sardegna Perché nuovamente si avvicina a quella nuova depressione Per il weekend poi che cosa dirvi Per il fine settimana avremo molta nuvolaglia sul paese Cerca di sfondare quella saccatura Voi come detto dovete aggiornarvi perché ancora non sappiamo se sfonderà Quello che è certo è che potrà provocare delle piogge sulla Liguria e sul Piemonte Per il resto invece il tempo dovrebbe restare asciutto Per la domenica abbiamo indicato invece la possibilità che la depressione resti un po' più spostata ad occidente Quindi molte nebbie, molte nubi ma pochi fenomeni Le temperature rimangono ancora su valori miti Questa è un po' la sintese della settimana Molto uggiosa, a tratti la pioggia ma anche qualche schiarita Insomma un contesto di variabilità di fine autunno che stona un po' Perché qui ormai ci si dovrebbe aspettare un po' di freddo Che invece è ancora quest'anno latita Buona settimana a tutti, ci vediamo lunedì prossimo A presto da Alessio Grosso Alessio Grosso